Un riconoscimento doveroso per un lavoro di ricerca di cui tutta la Toscana è orgogliosa. Con questa motivazione, letta con grande emozione, il presidente della regione Enrico Rossi ha consegnato il Pegaso d'oro a Federico Ferrini e agli altri ricercatori di EGO, l'osservatorio gravitazionale europeo di Cascina. Al suo interno c'è Virgo, l'interferometro che l'estate scorsa, in contemporanea con altri due denominati LIGO e situati negli Stati Uniti, ha captato per la prima volta le onde gravitazionali emesse dai buchi neri. Una scoperta scientifica straordinaria che apre nuovi orizzonti di conoscenza sul Big Bang, l'origine dell'universo, insegnita anche con il Nobel della Fisica. Il secondo segnale è stato sconvolgente perché veniva dall'emissione di due stelle di neutroni ed ha aperto la nuova astronomia gravitazionale, perché non soltanto noi abbiamo visto il segnale, ma 70 tra osservatori distribuiti sulla Terra o nello spazio hanno preso informazioni astrofisiche di prima mano da un evento che finora si vedeva soltanto a scoppio ritardato, diciamo. Quindi si è creato un nuovo tipo di indagine dell'universo e Virgo ha avuto un ruolo essenziale in tutto ciò. Ferrini ha voluto dedicare il Pegaso al padre delle onde gravitazionali, lo scienziato d'Alberto Giazzotto, recentemente scomparso ma presente all'inaugurazione di Virgo. Questo grande intervento per poter cercare le onde gravitazionali e poterle studiare è stato voluto tanti anni fa da due miei amici amministratori, Gino Nunes e Carlo Cacciamano, rispettivamente presidente della provincia e sindaco di Cascina. Come tutte le cose in Toscana anche questo fu molto discussa. Io direi che la Toscana è nella squadra di comando che si è lanciata alla ricerca dell'inizio dell'universo, per poterlo studiare, per poterlo ascoltare, un fatto straordinario davvero e anche emozionante. Grazie.